Largo superamento della soglia di criticità individuata al 30% di occupazione dei posti globali delle rianimazioni con malati Covid, evidentemente gli altri posti sono in genere occupati da malati non Covid, tanto gravi voglio dire, si tratta di patologie estremamente impegnative e questo dato è associato a una carenza di rianimatori che ormai è un dato che è storico visto e considerato che i concorsi vanno costantemente vuoti. E perché? Qual è il motivo Palermo? Perché abbiamo sbagliato 10 anni, nei 10 anni precedenti abbiamo sbagliato la programmazione dei fabbisogni specialistici, ma non mancano medici in quanto laureati in medicina e chirurgia, mancano specialisti e in ospedale e soprattutto in determinati settori come la terapia intensiva è necessario avere la specializzazione in anestesiologia e rianimazione, questi sono elementi che noi abbiamo segnalato pensi un po' 11 anni fa, nessuno ci ha dato ascolto, ora un piccolo virus si è preoccupato di mettere in evidenza tutte le criticità che noi abbiamo più volte sollevate.